Semiglia Romagna, la community di Instagramers di Semiglia Romagna che hanno organizzato un contesto fotografico su Instagram a chi posterà delle immagini e inserirà i tag di Torre e Torre e di Semiglia Romagna, i bici di Semiglia Romagna parteciperà a una selezione le foto più belle saranno premiate le due foto più belle saranno premiate grazie alla collaborazione dell'Enoteca regionale di Dosa con una degustazione tematica tema fatta all'Enoteca le altre foto invece le foto più belle selezionate noi abbiamo intenzione di fare un book fotografico con le foto più le ore dedicate a Torre e Torre che potranno essere pubblicate dal nostro centro stampa regionale e se saranno foto molto belle sarà l'avvio di una piccola mostra che vogliamo dedicare di chi era amante nei castelli che vogliamo dedicare a questa campagna ovviamente noi abbiamo partito da 22 castelli i castelli coinvolti sono quelli che già presentano schede voi salvate sul nostro sito dove trovate